Noi non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra, né centrosinistra, noi siamo sopra! Allora vi salutiamo, grazie per essere stati con noi. Il Movimento 5 Stelle, anche a Udine, sarà sempre più nel piazzo, perché veramente dopo un anno di esperienza, di cose da raccontare, ne abbiamo veramente tantissime. E più si fa esperienza, più si impara e si diventa anche competitivi. E quindi, come mi diceva, mi ricordava adesso Maglio, noi vi invitiamo sempre ai nostri meet-up, perché verremo nelle piazze, ma il nostro luogo ideale di dibattito è quello dell'assemblea. Noi abbiamo un sito che è www.udine5stelle.it e c'è anche mcqs.it, più o meno così, il sito è il Movimento regionale, dopo magari ve lo dice meglio Cristian. Per cui restate in contatto, venite alle nostre assemblee, portateci temi su cui discutere e su cui anche interrogarci. E adesso, da qui alle europee, troverete tutta una serie di dibattiti sul tema. E diciamo che la nostra curiosità più grande, adesso qual è? è sapere chi arriverà secondo dopo di noi, agli europei. Quindi sarà molto interessante, rimanete collegati, così lo scopriremo insieme. Ecco, appunto, vi ricordo una cosa Marco, così vi dà un saluto anche lui. Grazie a tutti. Grazie per la scoprita, ricordo un altro dei principi fondamentali delle 25 stelle, che è quello di non accedere ai finanziamenti pubblici. Quindi noi ci autofinanziamo, se volete aiutarci in questo percorso verso l'Europa, volete lasciare un'offerta, ve ne siamo grati. Grazie. Grazie a tutti i miei amici, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a voi, buona giornata.